Ciao ragazzi, mi sono trasferita da poco a Messina e la prima cosa che dovevo fare assolutamente è trovare un buon parrucchiere perché i miei capelli dopo l'estate erano un disastro. Ho trovato Franco de Gaetano che mi ha fatto un bellissimo lavoro sui capelli. Diamo una leggera spiegazione di quello che è stato fatto su Ivana. Lei è venuta qui da noi con varie facettature di colori, un po' colori sovrapposti. Abbiamo fatto delle semplici sfumature solo per togliere alcune barrature di colori precedenti per rendere un effetto più omogeneo e più naturale. Dopo, soprattutto su di lei che ovviamente ha nei capelli lunghi e ci ha fatto una serie di raccomandazioni, pur che lasciassimo a lei i capelli lunghi, abbiamo fatto una base dritta, cioè un taglio comunque pieno, ma molto degrafilato, alleggerito tantissimo sulle zone basse e anche sulle zone laterali. In maniera tale che è vero che la linea è piena, ma alla fine abbiamo un effetto leggero che gli permette a lei, valora lo volesse, di asciugare anche i capelli o a tonde o comunque morbidi, un po' più sostenuti. Noi abbiamo scelto questa ovviamente piega liscia a piastra, perché a lei piace, giusto Ivana? Mi piace. Ok, per ottenere secondo noi un effetto più dinamico, più moderno. Grazie Ivana per averci scelto, sei stata gentilissima e alla prossima. Ciao! Sono durissima, cosa è successo? Raccontoli tutto quello che ti hanno fatto in questi ultimi sei mesi. Va bene. Adesso non mi ho fatto niente, perché ho andato a un'altra barrucchiera cinque mesi fa, più o meno. Si sono barratura, però ce le ha molto vetrosi. Come se il capello, vedi, è vetroso. Ma tu un po' li vuoi tagliare? Si, è necessario. È necessario, però è un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io stavo molto preoccupata, perché ovviamente i capelli è una cosa importantissima per tutti noi, quindi cercare e trovare un buon barrucchiere è una cosa molto difficile. scusatemi il mio italiano, ma io sto ancora imparando. Ma sei bravissima. E va bene, quindi sono contentissima, questo lo devo dire, perché mi ha piaciuto tantissimo il trattamento dei capelli. tutto quello che mi hanno fatto è stato la cosa giusta che io volevo, quindi sono felice. e ringrazio Alba, a Franco, a Davide, a tutti per il lavoro e aspetto continuare a lavorare con voi. Ok, allora noi ti ringraziamo e ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti!